Mentre Paolo era a Corinto, una notte, in visione, il Signore gli disse «Non aver paura, continuo a parlare e non tacere, perché io sono con te». Queste parole le troviamo nella prima lettura di oggi. Siamo ancora in compagnia degli Atti degli Apostoli. Anche San Paolo deve aver avuto i suoi momenti di scoraggiamento. Pur essendo un uomo dalla grande fede e un ottimo predicatore, anche lui ha sperimentato il rifiuto degli altri. Spesso è stato irriso per ciò che diceva e, come abbiamo letto giorni fa, è stato anche oltraggiato, malmenato, incarcerato per quello che diceva, per quello che predicava. Questo innanzitutto deve consolarci, quando viviamo anche noi le nostre piccole sconfitte, le delusioni. Quando ci impegniamo per qualcosa e non vediamo i risultati, o peggio, siamo anche derisi, ignorati, ostacolati. Anche San Paolo è stato rifiutato, e questo l'ha visto tu anche Gesù. Chissà perché allora noi dobbiamo essere sempre sulla cresta dell'onda del successo e degli applausi. E' normale ogni tanto vivere qualche sconfitta, qualche piccola o grande delusione. Dio dice a San Paolo, non aver paura, continuo a parlare e non tacere. Ecco, non commettiamo il terribile errore di cambiare opinione, di fare le cose in modo diverso solo per cercare approvazione e applausi negli altri, ma restiamo fedeli alle nostre idee, ai nostri obiettivi, anche se a questi a volte ci possono mettere in difficoltà. E' sempre bene cercare di confrontarci con gli altri, ascoltare, dialogare, però quando vediamo che occorre prendere una certa strada, abbiamo il dovere e la responsabilità di non scendere a patti e compromessi con noi stessi, a costo di trovarci anche un po' in difficoltà. Ma vi assicuro che con il tempo le persone che magari oggi ci contestano un giorno invece capiranno. Per esempio sul mio comodino in parrocchia tengo una lettera di una mamma che dopo anni che criticava alcune scelte fatte a livello di oratorio e di pastorale, il giorno della cresima di suo figlio mi ha scritto ringraziandomi per il cammino vissuto dal figlio e per dirmi che finalmente aveva capito il senso delle scelte che avevo fatto e che per diversi anni le aveva appunto criticato anche in modo acceso e che a volte ci aveva anche appunto portato a qualche scontro. Ci vuole il tempo per capire, per accettare, però è giusto andare avanti, non arrendersi. Ma attenzione, Dio si rivolge a San Paolo e non si limita a dire non aver paura, continuo a parlare e non tacere. Ma aggiunge una frase importantissima, perché io sono con te. A volte, anzi spesso, non basta essere convinti di ciò in cui noi crediamo, ma occorre chiedere a Dio la forza per portare avanti le proprie idee, le nostre idee, la forza per reggere le critiche, i venti contrari, la forza per non cedere alla tentazione di preoccuparci soltanto dell'approvazione degli altri, la forza di saper portare avanti le nostre convinzioni, senza per questo mancare di amore e di rispetto verso il prossimo. Buona giornata.